ciao in questi giorni sto continuando a lavorare alle mie lezioni di grease pencil volevo farvi vedere giusto qualcosina di quello che verrà questi sono dei dei materiali dei pennelli che sono riuscito a preparare con le impostazioni di disponibili per i pennelli in grease pencil si possono ottenere degli effetti particolarmente interessanti sono riuscito a ottenere dei pennelli che simulano un'inchiostrazione con un feeling molto naturale e anche delle belle matite con le quali costruire dei disegni o comunque insomma se si vuole dare un aspetto anche più più naturale rispetto ai classici strumenti che sono disponibili di base fin da subito quindi diciamo che è possibile preparare uno dei più classici brush pack come come si possono fare per qualsiasi altra applicazione si possono preparare anche per grease pencil e sono piuttosto soddisfatto del risultato e li metterò a disposizione sul mio gamrod per chiunque di voi voglia provare a utilizzarli se per sbaglio già conosce lo strumento e vuole dedicarsi fin da subito ad utilizzarlo in ogni caso spiegherò come crearsi pennelli personalizzati alla quarta lezione di grease pencil quindi se avete un po di pazienza nelle prossime settimane un po alla volta ci arriveremo e potrete anche costruire i vostri li anche per esempio per fare dei tratteggi di questo tipo dei tratteggi incrociati in modo che possa ottenere qualcosa di simile a quelli che sono anche i miei soliti disegni quindi questi saranno disponibili fin da subito il tempo di fare l'upload se vi interesseranno altrimenti appunto aspettate qualche settimana e vedremo anche come farli nel frattempo vi mostro un'altra cosa un video di una di un esperimento che ho fatto questo pomeriggio nel giro di un'oretta per farvi vedere perché può aver senso prendersi la briga di imparare grease pencil e disegnare in blender adesso questo in questo qui è un esempio di animazione ho fatto molto velocemente ho preparato prima un ambiente tridimensionale semplicissimo quindi ho costruito semplicemente un piano e delle palle poi con il con i pennelli appunto che mi sono preparato ho cominciato a dipingerci sopra sempre molto molto in fretta e nel nel tentativo diciamo di creare un'animazione nel giro di un'oretta ecco adesso poi sono passato a creare un personaggio diciamo in questo caso si tratta di un areoplano ho usato anche qui una delle mie matite quindi uno degli strumenti che mi ero fatto e come vedete disegnare nello spazio tridimensionale ci permette di creare uno schizzo questo dà l'idea di uno schizzo a matita o a carboncino ma è uno schizzo tridimensionale per cui potremo inquadrarlo da qualsiasi parte con un po di pazienza non ci è voluto poi molto ho finito l'aeroplanino mi sono ispirato diciamo rivisto da poco porco rosso di mia zaki un idrovolante per quello è possibile ovviamente fare delle animazioni le animazioni si possono fare o disegnando fotogramma per fotogramma oppure come in questo caso semplicemente spostando alcuni segni ed andando a creare un loop quindi prima ho disegnato l'aeroplano ho creato un loop di animazione dopodiché una volta che la scena era pronta grazie sempre agli strumenti messi a disposizione da blender quelli più tradizionali diciamo quindi spostare gli oggetti scalarli ho messo l'aeroplano al suo posto e dopodiché ho cominciato a definire alcuni fotogrammi dei fotogrammi nei quali si trovava ancora all'interno dei fotogrammi nei quali invece era fuori o si tratta sempre di uno schizzo anche questo è un esperimento di animazione con un paio di fotogrammi si possono spostare alcune delle pennellate fatte e dare l'idea di un'erba che si muove ci vorrà un po di pazienza prima di arrivare all'animazione e a tutto questo comunque è per mostrarvi che con un minimo di dimestichezza nel giro di un'oretta è possibile creare un'animazione molto semplice e schizzata con un bell'effetto disegnato con la telecamera che si muove l'aereo che si muove il suo la sua singola animazione appunto del delle eliche è tutto molto molto semplice però se pensate che è stato ottenuto nel giro di un'ora un risultato decisamente interessante ed ecco qui il risultato finale a velocità standard di una semplice oretta di lavoro in blender quando si è riusciti a padroneggiare per bene lo strumento grease pencil delle animazioni che possono anche essere degli storyboard li utilizzi sono molteplici ovviamente facendo un bel disegno e facendolo per bene non mettendoci solo un'oretta il risultato può tranquillamente essere quello di un cartone animato vero e proprio di un'animazione vera e propria insomma quindi se siete incuriositi seguite il mio canale iscrivetevi e vedremo piano piano tutto quanto come riuscire a ottenere questi risultati grazie e alla prossima